Salve amici siamo i giocatori per caso, adesso facciamo la sfida consegna un furgone alla fattoria girasole così vedete dov'è la fattoria e come consegnarli il furgone ma se non siete ancora iscritti al nostro canale perché aspettare, iscrivetevi subito la fattoria girasole si trova in questo punto qui quindi dirigetevi in quella zona e quando possibile buttatevi dall'autobus lo scopo di questa sfida è portare un furgone fino alla fattoria ma non c'è un punto di partenza quindi ipotizzo che il furgone possa essere preso ovunque per comodità non lo prendiamo dalla parte opposta della mappa non andiamo a Pantano o a Brughiera che ci dobbiamo attraversare la mappa ne cerchiamo uno qua vicino e io l'ho già visto, l'avete visto anche voi? è proprio qua io gli porto questo furgone, vediamo se gli va bene, ci saranno se no 50 metri ok boh, magari gli va bene, magari no, vediamo subito c'è anche un'altra persona che ci vuole fregare il furgone, guardale proviamo, ah già finita, la sfida è già finita questa penso sia stata la sfida più veloce del secolo è incredibile, basta fare pochissimi metri quindi prendete il furgone più vicino e fate pochi metri se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti